Domani riprendono le assemblee tineranti di Epolis, incontrerete questa volta gli abitanti del centro storico, di una zona del centro storico che sono quelli vicino alla chiesa della Badiola? Sì, domani ci sarà il terzo appuntamento dove incontreremo i residenti del centro storico della zona di San Michele, appunto la Badiola. E cercheremo anche in questo appuntamento di ascoltare le stanze, i problemi, le esigenze, tutto quello che i cittadini di quel quartiere ci manifesteranno. E dopodiché cercheremo un attimo anche di proporre quelle che sono le nostre iniziative, il nostro programma, il nostro metodo, come abbiamo già fatto negli altri due appuntamenti. Questa è la prima riunione pubblica di Epolis dove arriverete con una consapevolezza diversa, nel senso che avete già il vostro candidato sindaco ufficiale che è Totopennica. Più che consapevolezza, perché quella c'è sempre stata e non l'abbiamo mai persa, parlerei di concretezza e di squadra che si comincia a definire. Il sindaco ce l'abbiamo, il programma ce l'abbiamo, continuiamo a manifestare la nostra volontà di interessarci della città, sentendo anche le necessità dei quartieri, con una completezza maggiore. Questo ci dà forza e siamo fortemente convinti che possiamo fare grande strada ancora.